Musica Ciao a tutti e grazie e benvenuti in questo nuovo episodio della Vintage Craft Ragazzi oggi, oggi è il giorno definitivo proprio Perché andremo a fare tante belle cose come sempre Detto questo si, intorno alla mia casa c'è questo casino qua di campo coltivato Perché purtroppo ho cliccato adesso con il mio catar Ok si, il catar E zappa la terra, guardate un pochettino che figo Che vado qui, clicco col destro e vabbè in verità zappa tutto quel livello lì Infatti se guardate ed ho cliccato qui tipo ha zappato tutto questo livello Già qua che era più sotto non l'ha fatto Il fatto è che ovviamente ho fatto un casino Detto questo, novità, novità off camera Ho aggiunto un pochettino di pannelli solari Non di quelli potenti di livello 1 ma quelli di livello 0 schifosi Laggiù ho aggiunto un pochettino di windmill Pochissimi ragazzi, tanto non costavano assolutamente niente E qui c'era tech che mi aveva disattivato tutto perché ragazzi il server era morto Vi spiego tutto Quando uno è nel server, questo aggeggio qui funziona Quando uno non è nel server non funziona Esempio Nessuno gioca di notte La notte si va a dormire, quindi il giorno passa Il fatto è che questa batteria qui, questo marchiglino qui funziona soltanto se si alterna il giorno e la notte Perché il giorno si carica tantissimo e va in positivo E la notte invece si scarica e va in negativo perché ci sono i pannelli solari appunto che di giorno e basta funzionano Il problema cos'è? Che aveva cominciato a buttare fuori tantissima redstone facendo laggare tutto E ma veramente tantissima redstone E allora cosa ho fatto? Vabbè siccome tech l'ho disattivato io l'ho riattivato Ma ho seguito il consiglio di uno di voi Che appunto mi ha dato una cosa stupida E un consiglio veramente basilare Ma che effettivamente non ci ho mai pensato È stato un lampo di genio Quindi grazie mille E semplicemente di aver messo la lava ragazzi La cosa più stupida da fare in minecraft Per bruciare gli oggetti, per eliminarli Quindi ora quando è giorno e la batteria è piena E comincerà a buttare fuori redstone Si brucerà e non farà laggare il server L'ho fatto pure qui Qui non è molto funzionale Perché va a finire praticamente sul cavo Però almeno la metà dei drop vanno a sparire E lo so è un peccato È un peccato perché in questo modo Andiamo a bruciare tantissimi materiali Ovvero tantissimi emc Però vi ricordo ragazzi Che qui abbiamo una farm della madonna E che poi oltretutto Io sì per fare andare quei cose lì Ci butto dentro Tipo red matter e robe varie Però volendo Potrei fare una genialata Ovvero prendere due energy collector E con questi qui ragazzi Produrranno emc direttamente Collegandosi alla chest E quindi Non devo più buttarci le cose dentro in teoria Poi vediamo La posso sempre Ok sì perfetto La posso sempre aprire Guardate un pochettino che figata ora Non ci avevo pensato in effetti Ed è figo Come potete vedere qua non si carica Anche se il sole gli sta arrivando Perché l'energia non viene accumulata qua dentro Ma la passa direttamente alla chest che sta sotto Che guardate un pochettino Sbam Comincia a produrre Ora non so se è più lento O più veloce Sinceramente Però vabbè È comunque un aiuto extra E ci può stare Perché no Diciamo che così È più autonomo Però forse È più duraturo Se li metto da bruciare qualcosa dentro Non saprei Non saprei Però per il momento Va benissimo così ragazzi Non mi lamento Tanto Guardate un pochettino Qua ci abbiamo già fatto altre 18 di Yuumeter Ragazzi Addirittura Non ve lo nego Abbiamo farmato così tanto off camera Che praticamente Questo marchiglino qui Dovrò anche disattivarlo Perché non ci serve più tutta quella corrente Cioè la corrente Dovrò in modo di utilizzarla Però sinceramente Non ci servirà più Yuumeter Perché guardate quanta ne ho fatta 4 stack e 40 E se non sbaglio Per fare la full armatura Servono 4 stack e mezzo O 5 stack e mezzo Non ricordo Comunque è notte Piove anche Quindi andiamo a dormire Tra l'altro non so perché Ma non sento il rumore della pioggia Però non mi interessa Detto questo Cosa bisogna fare Per fare appunto L'iridio ragazzi Solita storia Si spalma in questo modo Lezzissimo Quindi cerchiamo di fare Nel più possibile Tanto con la Yuumeter Non si può fare nient'altro Che l'iridio E quindi Sbam Ok Ne avanziamo i pezzettini 49 ragazzi 49 di iridio Allora L'iridio ci serve I advanced alloy Che sono uno sbatti Assurdo da fare Tanto diamante Oddio tanto Nemmeno troppo E ok Questi qui si fanno Tin Bronzo E refined iron Allora Refined Avevo fatto i machine block L'ultima volta Quindi va benissimo Il tin Ne prendo un pochettino E il bronzo Non ne ho tanto Ma spero possa bastare Convertiamo E perfetto Allora ci va il refined Qua sopra Il tin Qua sotto E qua tantissimo di questo Ragazzi Lo faccio fino a che non spreco tutto il bronzo Tanto il bronzo non mi servirà nient'altro Ed è giusto così Sbam Ok perfetto Non abbiamo più bronzo Ora 28 pezzi Basteranno Io penso di no Ma oh mio dio Che sono questi qua Quelli che ci servono Sì ragazzi Sono questi Ci va di stralusso L'avevo già fatti Non so quanto tempo fa E tra l'altro Ok Qui ho due upgrade Quindi intanto li posso mettere qua dentro E sì lo so Dovrei farne altri Però mi sono scordato di farle off camera Quindi perdonatemi Ragazzi Mi tanto sbaglio anch'io In realtà sbaglio spesso Non lo nego Però più che sbagliare qui E dimenticarsi le cose Dai Che è ben differente Poi preparo anche un po' di diamanti Ma vabbè ragazzi Io qua c'ho le ceste Piene di diamanti E queste robe qui Piene di diamanti Ce li ho Perché tipo L'avevo presi L'avevo moltiplicati Qua che avevo fatto un casino L'avevo detto di moltiplicare il diamante Una roba simile Comunque ok 45 pezzi Ne ho fatti anche fin troppi Allora Intanto Ha fatto gli advance dall'OI Ma voleva direttamente questi Oppure no Intanto Si possono fare anche delle cose Abbastanza fighe Che non conosco Magari mi dovrei informare Su queste robe qui E tra l'altro ragazzi Sì mi avete detto di fare La centrale nucleare E tranquilli Che arriverà Come posso non farla ragazzi Come posso Guardate In effetti Per farla servono tutti questi cosettini qui Ragazzi Se si fa Madò E a proposito D'anno saber Ragazzi Mi avete detto una cosa Che io effettivamente Non l'ho più detta Quando ho detto Quando l'ho provata Perché si era fatta Mi avete detto Di cliccare col destro E così si attivava Praticamente Ora è attiva E sta consumando corrente Perché sennò infatti Non faceva molto danno E ok Me l'ero scordata questa cosa Cioè lo sapevo Perché questa Questo mod Perché l'avevo già giocato Però in effetti Come cosa me l'ero scordata E quindi va rivalutato Il danno che fa Andre l'avevo provato Su un qualcosa Tipo questo enderman Vagato Che in verità C'è ma non c'è No in vero Non c'è proprio Cioè Non lo so vabbè Comunque boh La spada potrebbe essere interessante Consuma corrente Non so se mai la userò E mi sono scordato una cosa Effettivamente Qua si è creato l'orticello Però siccome c'è l'acqua Non se ne andrà mai via Ci pianto il grano Già che ci sono Ragazzi Non lo so È trash come cosa Lo so benissimo però Va così Va così Ma rimettiamo tutto a posto Vediamo intanto se qui ha finito Non finirà mai Comunque dai Ok Intanto potrei cominciare A fare i primi pezzi Vediamo perlomeno Se so fare il crafting Così me lo ricordo Ne possiamo fare a occhio 7-8 pezzi Sì una roba simile Qualcosa Iridium plate 7 pezzi Con 7 pezzi ragazzi Ci possiamo già fare 2 pezzetti di armatura Quindi facciamo Prima di tutto Le scarpettine Che vuole Ah vuole anche L'apotron crystal Che ok E quanti ne vuole in tutto Ah ne vuole un pezzo Per ogni pezzo di armatura Ok Quindi in tutto Sono 4 l'apotron E 8 circuiti elettronici Ne avrò 8 oppure no Perfetto Olè ne ho 5 Intanto mi parla anche questi qui Che ne so che ne vuole 2 Però per i circuiti Ah cavolo 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 Vabbè mi tocca fare un pochettino di cavi Ho capito E qua ci sono altre advance da noi Ragazzi incredibili Come ho le cose sparse Veramente da tutte le parti In effetti non capisco Perché ogni volta Mi traumatizza fare i cavi Se sono la cosa più facile Del mondo da fare Io ragazzi Non l'ho ancora capita Questa cosa Spiegatemela voi magari Ok Anche di Questi aggegini qui Cerco di farne un pochettino Il più possibile Perché sennò Poi mi mancano E i circuiti elettronici Ragazzi sono essenziali Per la serie appunto Olè Che poi dico Ne voglio fare tanti Alla fine non ce l'ho nemmeno I materiali per farne così tanti Vabbè Dieci Ne andrò a utilizzare otto Meglio di niente Quindi poi Servono i lapislazzoli Che non sono un problema E l'energy Ok Quindi vuole tantissima redstone Che prendo subito E i lapislazzoli Che non ho Quindi vado a moltiplicarli Eh ci mette tempo per farli Magari li faccio bruciare Un pezzettino di questo qua Così le fa subito Ok Così ne ho fatti subito un bordello Perfetto Però fermiamolo Perché sennò poi troppo tardi Ok Quindi quattro Energy crystal Poi si mette così E uno ad uno Si fanno i lapotron crystal Ok perfetto E mi avanzano i circuiti Anche giustamente Questa roba la posso rimettere Voi dentro qui Tanto per il momento Non mi interessa E possiamo già cominciare Con il primo pezzo d'armatura Allora per fare questi qui Vuole anche i rubber boots Che sono una facilata da fare Però mi serve appunto La gomma Che tengo da questa parte qui E per fortuna ne ho abbastanza Ne servono Dodici pezzi Se non sbaglio E anche due pezzi di lana Che non so Se tengo da qualche parte Oppure no Probabilmente no E la lana come la prendo però? Devo bruciare qualcosa Mi sa Provo a bruciare Un po' di roba così Devo arrivare a 40 Se non sbaglio O forse no Cool 48 vale Ok 48 Quindi se la trovo qui Bruciando questo Ok perfetto Pezzi di lana La vado ovviamente A moltiplicare 12 pezzi Bastano Avanzo In realtà Me ne servono 82 E quindi Andiamoli a mettere qua Se non sbaglio La fatti così Ok perfetto Abbiamo fatto tutto Ragazzi Perfetto Non mi rimane altro Che prendere appunto Le scarpette E cominciare A sistemare Il tutto Si mettono questi qua sopra E perfetto Abbiamo fatto il primo pezzo D'armatura Passiamo subito al secondo Che vuole anche I machine block In più E due di glowstone Due di glowstone Dovrei averli qua E i machine block Penso di averli rimessi A posto Quindi Ah no Ok ne ho due qua Perfetto Che bello Quando ho già tutto pronto Comunque dai Anche qui Strafacile E praticamente Abbiamo fatto anche questi In verità ho sbagliato qualcosa qui Infatti era un po' invertito Ma va benissimo Anche i pantaloni Li abbiamo fatti Ora con 3 di redium plate Non ci faccio nulla Quindi mi servono Altre advance dall'oi E qua dovevo continuare A farli appunto Che dall'altro Io spero Mi bastino Perché se non ricordo male Erano fatti così Però non so Quanti mi servono ancora Che mi è anche avanzato qualcosa Ne ho Ah si ok con 8 Ce la faccio sicuramente A fare tutto Ma sicura al 100% Ah ma questo è facilissimo Non vuole nessun pezzo aggiuntivo Però costa tanto di redium plate Quello assolutamente si Accidenti no Serve alto advance dall'oi Però No questa non ci voleva Probabilmente si andava a utilizzare Meno per redium plate Che non me ne servono così tante E forse ce la facevo anche E vabbè E vabbè Per fortuna però C'ho già del copper macinato Mi manca da fare Un pochettino di tin No il tin ce l'ho già qua Oh madonna C'ho già tutto E se non sbaglio Le polveri le voleva mischiate Con 3 di tin E uno di copper No forse era il contrario Proviamo un attimo Si ok perfetto Bronzo Che bello ricordarsi le cose ogni tanto L'altra polvere la metto qui Questo si mette a cuocere Che tanto lo fa giusto In 3 secondi contati Ok E abbiamo di nuovo tutto Allora io so che me ne servirà Anche un pochettino di più Per do perché ho già visto Un pochettino di crafting Quindi mi porto avanti E ne faccio un po' di più Ecco Oddio 6 pezzi Un po' di più Non so se bastano Io ci spero comunque Ma che vada se ne fanno altri Ok il terzo l'ha fatto Comunque possiamo già fare L'armatura ora Che appunto stavo dicendo Si costa un pochettino di più Di redium plate Che sono molto molto costose Però alla fine non vuole oggetti strani Chissà che cosa Quindi sbam Abbiamo fatto anche questa Manca soltanto il cappellino Quindi si mi avanzano due Di redium plate Guarderò in futuro come utilizzarli E qua Oltre che due Advanced circuit Che per fortuna già ho Vuole Redforced glass Che questa cosa qui Rivedremo in futuro Quando faremo la centrale nucleare Che praticamente È vetro normale Con due Advanced alloy Il vetro comunque Per fortuna ce l'abbiamo Perché l'ultima volta Ne abbiamo fatto veramente un bordello Quindi vediamo Ok qui ha fatto Comunque in effetti è vero Se io non facevo quei due pezzi in più Di appunto i redium plate Era perfetto L'alloi lì Cioè Boh vabbè La classica sfiga Comunque I circuiti si mettono qui Qua ci si mette il vetro Il lapatron qua In mezzo I redium plate di lato E sopra il cappellino E sbam Abbiamo finito la quantum suite Ora Quello che mi avanza Lo metto in queste ceste qui Perché comunque è roba tecnica Quindi le robe tecniche Si mettono qua dentro La Yuyo metterò in eccesso In effetti non so cosa farci Nemmeno con l'iridio All'avanza dell'alloi Penso che non l'iserò mai più Ma non si può mai sapere Quindi si conserva Ora cosa molto molto importante E notte Quindi devo andare a letto E per caricare questa armatura Devo andare nell'MFU No nell'MFE Che questo è scarico Quindi dovrò usare per forza l'alto Poi si prova l'armatura dai Ok è giorno Quindi andiamo a provare tutto Devo stare molto attento Al fatto che Siccome arriva un mob dietro Mentre sto caricando l'armatura No ok In effetti non potrebbe cadere E com'è che si carica? No quando la fa caricare? Ah Cavolo Vi ricordate la Non quella prima Cioè non la Quantum Ma la Nano Che non la faceva caricare qua Ma la faceva caricare nell'MFE Io penso che per caricare la Quantum Non serva l'MFE Ma serva quello dopo Vediamo un attimo Con l'MFE si dovrebbe poi fare Cioè ci dovrebbe essere l'MFSU Esatto E mi sa che serve questo Con 6 l'Apotron L'Advanced Circuit Madò E' costosissima come roba Però tutto sommato si può fare Penso che lo andremo a fare nel prossimo episodio Per il momento Tanto l'armatura leggermente è carica Quindi si può anche provare così E già con 3 pezzi Ragazzi siamo così In effetti più o meno E' come quella in diamante Ma avrà delle particolarità Si potrà volare Si potrà fare qualcos'altro Ragazzi Noi l'armatura l'abbiamo fatta Tutti i vari poteri che ha O che potrebbe avere Perché in effetti Non lo so Mi ci devo ancora informare bene Le scopriremo nel prossimo episodio In cui andremo a caricarla E fare altre cose Veramente legzissime Detto questo Io spero che questo video legzissimo Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti